L'espulsione dall'Italia di Recep Limani, un operaio macedone allontanato per motivi di prevenzione del terrorismo con l'accusa di fondamentalismo islamico, ha sconvolto tutti a San Zenone degli Ezzelini, dove su 7.000 abitanti il 17% è straniero. C'è chi partecipa alla vita sociale del paese, ma c'è anche chi non parla neanche l'italiano. Quando il 2 giugno, per esempio, il Comune organizza per i diciottenni la consegna della bandiera e della Costituzione italiana, racconta il sindaco, i figli degli immigrati non partecipano quasi mai. Quando queste famiglie chiedono la cittadinanza, io lo faccio sempre notare ai genitori. Voi chiedete di venire a vivere qui con noi, avete scelto l'Italia, chiedete della cittadinanza. Però dovete anche essere parte integrante a 360 gradi della nostra comunità. Questo purtroppo, con la crescita dei bambini, notiamo che non si realizza. A novembre uno dei 5 figli di Limani, che frequenta la scuola elementare, commentando in classe gli attentati di Parigi, aveva detto, hanno fatto bene, ora andiamo a Roma e uccideremo il Papa. La dirigente scolastica dell'istituto, avvisata dalle insegnanti, aveva inviato una segnalazione alla Farnesina. Deve essere segnalato in maniera discreta, ma deve essere segnalato. Perché a volte anche una frase captata magari in piazza o in un bar, eccetera, può essere la punta di un iceberg che riflette un modo di pensare. A pochissima distanza dal municipio, l'associazione islamica La Fratellanza, frequentata da Recep Limani, attiva da vent'anni, conta oggi una sessantina di iscritti. Lei lo conosceva bene, perché comunque frequentava la sua associazione. È un elemento pericoloso che doveva essere allontanato, perché poteva essere potenzialmente un terrorista. No, 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 non so. Di essere terrorista no. Cosa le diceva? Di che cosa parlavate? Diciamo, rispetto alle altre persone che frequentano l'associazione, aveva un atteggiamento diverso? Sempre parlavamo della religione e imparare di più la religione, quello. Degli attentati di Parigi cosa pensava? Sempre siamo stati contrario di queste robe. Noi condanniamo il terrorismo. Anche lui e anche la persona che è stata esposa? Certo, certo. Condannava quello che è successo in Parigi. Ah, perché è stato espulso, secondo lei? Eh, non lo so. Non lo so. Se questi sono i dubbi dell'associazione, nel resto del paese c'è chi si interroga su una convivenza sempre più messa in discussione. La comunità islamica o comunque queste persone, gli immigrati che sono presenti a San Zenone, non hanno mai creato problemi. Bisogna comunque dirle la verità. Il problema è che a questo punto uno si chiede, si fa la domanda. Se una persona è stata espulsa vuol dire che un problema c'è.